Clara De Cortes, oggi i primi due set la chiusi te, una Zambelli-Orvieto che è andata comodamente in vantaggio, poi che cosa è successo? Eravate un po' rilassate nel terzo? No, rilassate no, comunque sono partite con squadre importanti, comunque con un roster molto molto forte, quindi il terzo set è stato comunque quello che dovrebbe essere la nostra partita, un avversario forte che non avrebbe mollato nonostante fosse stato sotto i due set, poi comunque è così, la palla a volo sei avanti, poi devi giocartela e poi ritornare a vincere. Nel momento difficile del quarto set Prandi ha avuto in te il riferimento principale, sei stata te che hai chiamato più palloni oppure è stato proprio un segnale della palleggiatrice che voleva andare a chiudere questa partita? Beh, penso che sia stato un po' anche la fiducia della squadra, di Vitti, nel darmi quei palloni, comunque giochiamo insieme da due anni e sa come reagisco nei momenti un po' più delicati, quindi mi fa sempre piacere. Una vittoria, che cosa significa questa per Ad Zambelli? Beh, significa comunque sicurezza, significa dimostrazione, cioè abbiamo dimostrato che nonostante siamo una squadra giovani dove gli alti e bassi ci sono, possiamo dimostrare comunque tanto, tanto, tanto.